e adesso come facciamo la soluzione ci sarebbe pura dobbiamo chiedere alla tipa qua se ci preste il suo gioco anch'io con voi non se ne parla proprio niente femmine allora niente palla o voi maschi vi arrendete all'evidenza che per arrivare così in alto farete cose pericolose o insensate oppure potete mettervi accanto alla donna grazie